I saggi sono giunti a vedere il Messia, ma vedono un bimbo e una madre già c'è. Ave Maria, ascolta il cantico degli angeli in cielo. Ave Maria, Ancelle, Madre di Dio, nostro Re. Dov'è la sua corte? Chi è il suo popolo? Perché non veste corone e potere? Un greggio è l'esercito per popoli poveri. La pace è lo scendolo, corone e l'amore. Quali tesori sono loro in incenso? Il più prezioso cuore pieno d'amore. Lode al Dio bimbo e lode alla madre che, dono di grazia, portò il Salvador. L'abbiamo con la voce. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti.